Poi ci sono gli incidenti sul lavoro, l'ultima ora ci parla di un grave crollo nel Tarantino a Lizzano dove un solaio appunto è crollato in una palazzina in ristrutturazione e non si è ancora capito con certezza se sotto le macerie ci sono delle persone, presumibilmente dei lavoratori. Dunque parlavamo degli incidenti sul lavoro che molto spesso avvengono sui cantieri edilizi e l'ultimo è quello avvenuto a Milano. Non c'è stato scampo per Elusen Fullu, operaio 51enne marocchino, lunedì mattina era appeso a una fune a 20 metri di altezza per ristrutturare la facciata di un condominio di Milano. Qualcosa è andato storto ed è precipitato, l'ultimo incidente sul lavoro purtroppo mortale. La crescita di infortuni e incidenti sul lavoro non si ferma, più 41% tra gennaio e luglio di quest'anno. Il settore più colpito è quello delle costruzioni, quasi 20.000 infortuni negli ultimi sette mesi, rileva INAIL. Nello stesso periodo del 2021 erano stati 16.300. Sicuramente c'è un problema di qualificazione delle imprese, soprattutto nell'ultimo periodo, perché queste possibilità di guadagno facile con tutti questi incentivi e questi bonus hanno fatto sì che si creassero aziende che non sono aziende che hanno un'esperienza alle spalle nel settore delle costruzioni. C'è sicuramente un problema anche poi legato ai controlli, nel senso che abbiamo tantissimi cantieri in giro per l'Italia, i controlli, il numero dei controlli purtroppo non sono adeguati alla quantità di lavoro che si è prodotta in questi anni. Quello che noi stiamo chiedendo da tanto tempo, per esempio, è una patente a punti. Quindi che le aziende, un po' come funziona per gli automobilisti, abbiano un punteggio di partenza che viene man mano decurtato, qualora vengono registrate, diciamo, delle irregolarità dal punto di vista dell'applicazione delle norme su salute e sicurezza. Il ricorso all'edilizia acrobatica è sempre maggiore. Molti condomini la richiedono perché la ritengono più sicura dei ponteggi. In realtà si potrebbe utilizzare solo se non c'è possibilità di effettuare i lavori con altre attrezzature, se l'intervento è urgente o limitato nel tempo, se il rischio complessivo è minore rispetto ad altre soluzioni e il luogo dove si deve lavorare non è modificabile. Laddove c'è la possibilità di montare un ponteggio, è più sicuro far lavorare i lavoratori su un ponteggio, perché garantisce più stabilità, più via di fuga, eccetera. Asso in Predil non ha una formazione specifica per chi lavora senza ponteggio, nelle proprie scuole, per operai dei cantieri. La formazione viene curata dalle stesse società. In rete si trova di tutto, da piccole aziende con pochi dipendenti, a grandi gruppi con propri centri di formazione. Il numero di incidenti mortali resta troppo alto. Nei cantieri ed ili tra gennaio e luglio quest'anno hanno perso la vita 62 operai lavorando.